Il funerale della Sanità Pubblica Lombarda. In questi giorni la giunta regionale Fontana Moratti approverà una controriforma della Sanità Pubblica Lombarda. È il funerale definitivo del servizio sanitario della Lombardia. Siamo la regione in Europa che ha avuto il maggior numero di morti di Covid. Siamo arrivati a 35.000 decessi. E questo è il risultato dell'azione combinata del virus e dei nostri amministratori responsabili della Sanità Pubblica. Eppure a nulla è servito. Quello che è accaduto è responsabilità di un servizio sanitario fortemente privatizzato dove l'idea del profitto ha portato alla distruzione del servizio sanitario territoriale, alla riduzione del numero dei medici di famiglia, alla chiusura degli ambulatori, alla mancanza delle USCA, le strutture di assistenza domiciliare. Tutto questo ha portato alla tragedia che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo durante la pandemia. Ebbene, come reagisce la regione Lombardia? Come reagisce la giunta regionale? Abbiamo avviato una controriforma che privatizza ulteriormente il servizio sanitario. Che cosa vuol dire concretamente questo? Che finalmente nasceranno le case della salute, nasceranno gli ospedali di comunità, ma molti di questi saranno privatizzati, saranno gestiti da strutture private che cercheranno di inviare i cittadini che li contattano verso i loro ospedali e i loro trattamenti privati in modo da trarre maggiore profitto. Un altro aspetto della privatizzazione della sanità lombarda lo stiamo già sperimentando tutti i giorni. È diventato praticamente impossibile riuscire a fare degli esami, a fare delle visite in tempi brevi. Vi sono liste di attesa lunghissime. Se oggi chiamate perché avete la necessità di fare una risonanza, trovate qualcuno al centralino che vi risponde di aspettare sei, sette, otto mesi. E poi vi propongono invece di fare la risonanza privatamente pagando centinaia e centinaia di euro per non parlare di coloro che hanno bisogno di assistenza domiciliare. Le cooperative convenzionate con la regione non hanno a sufficienza infermieri o assistenti sanitari. Il risultato è che chi ha bisogno di assistenza domiciliare deve rivolgersi per forza al privato. Stiamo andando verso un servizio sanitario modello statunitense dove potrà curarsi solo colui che avrà i soldi. Per questo oggi stiamo rappresentando qua in piazza davanti al Pirellone, davanti alla sede a una delle sedi della regione Lombardia il funerale della sanità pubblica. Una funerale dovuto alla privatizzazione, ai grandi interessi privati. È stata organizzata questa iniziativa da DICO 32 che è il coordinamento in difesa della sanità pubblica della regione Lombardia. 32 per ricordare l'articolo 32 della Costituzione che stabilisce che il diritto alla salute è il diritto di ogni essere umano. È l'articolo 3 della Costituzione che stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo economico e sociale che impedisce al cittadino di godere dei diritti stabiliti della Costituzione. E tra questi diritti c'è il diritto ad essere curato. In questi giorni in regione stanno approvando una legge regionale che privatizzerà ulteriormente il servizio sanitario, che renderà ancora più impossibile riuscire a prenotare visite, interventi chirurgici ed esami diagnostici in tempi brevi con servizio pubblico. Obbligherà milioni di persone, milioni di lombardi a rivolgersi alla sanità privata. È una vergogna che le strutture private sanitarie possano decidere di convenzionarsi col servizio sanitario pubblico solo nei settori maggiormente produttivi di profitto e poi mantenere dentro la stessa struttura degli ambiti totalmente privati. Questo produce il fatto che quando un cittadino chiama per prenotare un esame, una visita col servizio pubblico gli viene detto che deve aspettare un mese, due mesi, sei mesi, otto mesi poi 30 secondi di silenzio e poi l'operatore o l'operatrice gli dice ma guardi, sei disposta a pagare, a farla privatamente può venire anche domani o dopo domani pagherà 150 euro, pagherà 500 euro, dipende dall'esame e verrà realizzata subito sia la visita che l'esame diagnostici. Questo crea un'ingiustizia, crea il fatto che solo chi ha i soldi può curarsi, crea una discriminazione sociale. Noi vogliamo in Lombardia un servizio sanitario pubblico rispettoso dei diritti di ogni cittadina e di ogni cittadino. Vogliamo diminuire e abolire le liste d'attesa vogliamo stabilire che dentro gli ospedali pubblici l'attività privata venga sospesa fino a quando non verranno rispettati i tempi delle liste d'attesa stabiliti dai regolamenti e dalle leggi. Non è accettabile che dentro gli ospedali pubblici per fare un esame tu devi aspettare settimane e mesi mentre gli stessi medici te lo possono fare privatamente in intramenia dentro l'ospedale pubblico magari il giorno dopo o due giorni dopo. La sanità è un diritto la sanità è sostenuta con le tasse che ogni cittadina e ogni cittadino paga per questo abbiamo lanciato una grande mobilitazione per venerdì prossimo ci troviamo qua ci troveremo qua alle 16.30 alle 4.30 di pomeriggio di venerdì 26 novembre proprio nei momenti nelle ore in cui il Consiglio regionale approverà questa nuova controriforma una grande mobilitazione una grande manifestazione di protesta per ribadire che la sanità deve essere pubblica che la salute non può essere mercificata che nessuno deve guadagnare sul nostro corpo la lotta che noi facciamo in Lombardia per difendere la sanità pubblica è la stessa identica lotta che si sta svolgendo in tutto il mondo per poter avere i vaccini contro il covid disponibili in ogni angolo del pianeta anche nel caso dei vaccini la vicenda è sempre la stessa da un lato milioni di persone che muoiono e dall'altra parte un pugno di quattro grandi aziende farmaceutiche multinazionali che guadagnano miliardi e miliardi noi chiediamo una cosa semplice a livello mondiale noi chiediamo una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini per tre anni così come è chiesta da cento paesi in tutto il mondo così come è sostenuta dalle associazioni dei sindacati di tutto il mondo rendete disponibili i vaccini in ogni angolo della terra se le persone non verranno vaccinate anche in Africa si svilupperanno delle varianti maggiormente aggressive del virus e questo virus tornerà anche qua da noi in Italia e non sappiamo se i vaccini di cui disporremo saranno in grado di bloccare queste nuove varianti ecco come vedete la battaglia che stiamo facendo è sempre la stessa nessun profitto sulla pandemia nessun profitto sulla nostra salute e questo tema in Lombardia significa fermare la legge Moratti la controriforma della sanità lombarda l'ulteriore privatizzazione della sanità lombarda a questi signori a Fontana a Moratti a Gallera alla giunta regionale non sono stati sufficienti 35.000 morti in Lombardia per imparare che una delle cause di questa tragedia è stata avere un servizio sanitario che destina il 40% dei soldi pubblici alla sanità privata convenzionata che punta prima di tutto a fare i propri profitti non è stata sufficiente la pandemia per capire che hanno distrutto la sanità territoriale abbiamo centinaia di migliaia di persone in Lombardia che sono senza medico curante abbiamo i servizi territoriali ridotti al minimo abbiamo un'assistenza domiciliare scadente non tanto nella qualità quanto nel numero persone a casa che non riescono ad essere assistiti e i familiari devono rivolgersi alla sanità privata noi chiediamo di fermare questa controriforma noi vogliamo rilanciare un servizio sanitario pubblico universale gratuito nell'accesso perché già sostenuto dalle nostre tasse dalla fiscalità generale vogliamo un servizio sanitario che sia in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini delle cittadine lombardi è inaccettabile dover aspettare mesi e mesi costa pagare ed andare dal privato la visita all'esame la puoi fare anche il giorno dopo questo significa vantaggiare le assicurazioni private noi crediamo invece che sulla salute di tutti noi nessuno debba trarre profitto se verrà approvata la legge Moratti sarà il funerale definitivo per la sanità pubblica per questo invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare a una grande manifestazione venerdì prossimo venerdì 26 novembre alle ore 16 e 30 nelle stesse ore in cui il consiglio regionale voterà la riforma la controriforma Moratti della sanità noi saremo qui a manifestare invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare venerdì 26 novembre alle ore 16 e 30 qua in piazza Duca da Osta davanti al Pirellone buongiorno a tutti siamo qua per difendere la sanità pubblica dall'ulteriore affossamento che la giunta regionale vuole adottare con la nuova tra virgolette riforma Moratti è una riforma in cui i soldi pubblici del piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati alle case della salute e all'ospedale di comunità e all'assistente domiciliare integrata vogliono essere messi a disposizione ancora del privato per i profitti anziché per migliorare la medicina territoriale parliamo di oltre un miliardo di euro che andranno nelle tasche pubbliche nelle tasche private anziché pubbliche per incrementare i profitti e non i servizi e non per migliorare la salute collettiva e individuale è un sistema anche abbastanza ambiguo in quanto dalla parità dalla presunta parità pubblico privato che in Lombardia significa viene presentata come libera scelta ma una libera scelta fasulla la libera scelta è in realtà scegliere aspettare mesi per avere un servizio oppure pagare ed averlo in tempi brevi questa è una libera scelta ovviamente che non è realistica il servizio sanitario nazionale è nato con tre caratteristiche l'universalità d'accesso ed equità di accesso per tutti la gratuità quindi il pagamento tramite la fiscalità di carattere generale e la partecipazione i distretti di una volta erano una fonte di partecipazione da parte degli enti locali per poter definire gli obiettivi e seguire l'attuazione degli obiettivi di salute a livello territoriale oggi abbiamo delle ATS e delle ASST di dimensioni gigantesche in cui i direttori generali sono dei monarchi e non rispondono a nessun altro che all'assessorato e con obiettivi che non sono di salute ma sono semplicemente di budget tant'è che anche il personale si è ridotto abbiamo avuto una riduzione dell'11% del personale pubblico in sanità rispetto al 7% medio a livello nazionale i tecnici della prevenzione ad esempio quelli che si occupano di sicurezza e salute del lavoro sono ridotti del 40% e ogni volta che c'è un infortunio mortale ci si chiede ma dove sono i controlli i controlli sono stati azzerati perché non ci sono gli operatori che sono andati in pensione e non sono stati sostituiti e questo grazie a questo anche grazie a questo i budget sono stati rispettati e il bilancio è stato equilibrato ma l'effetto è quello che i controlli sulle aziende e per prevenire gli infortuni si sono ridotti e gli infortuni aumentano in particolare con i mortali come abbiamo visto anche in Lombardia per cui c'è da riprendere e potenziare la sanità pubblica perché ha delle funzioni che il privato non può avere che non ha alcune intenzioni di avere dal pronto soccorso ai servizi veterinari ai controlli degli alimenti all'igiene pubblica al controllo dei cantieri e dei luoghi di lavoro queste non sono cose di competenza del privato devono e sono pubbliche devono essere potenziate questa legge non le potenzia anzi ma continua ad affossare questi servizi per questo noi siamo qui oggi e saremo qua venerdì alle 4 e mezza di pomeriggio e dopo continueremo a esserci come ci siamo stati ovviamente nel passato perché non siamo non da oggi contrastiamo le leggi regionali che da 25 anni po' per volta hanno portato a questa situazione che viene appunto ancora più aggravata nel prossimo momento noi ci saremo anche nelle prossime occasioni anzi paradossalmente da una parte la situazione che è fatta in mezzo del Covid della deboezza della sanità lombarda le proposte stesse della Moratti per un'ulteriore privatizzazione in qualche modo ci hanno tra virgolette rafforzato nel senso che hanno dato modo di trovare una condivisione con molti gruppi e associazioni per una delle quali in tempo faceva delle cose nel proprio territorio e adesso ha degli obiettivi di carattere generali ben più consistenti per cui ci ha dato modo di ritrovarci di scambiarci le iniziative e gli obiettivi e ci sentiamo molto più forti rispetto a prima e questo forse è una novità che dobbiamo paradossalmente ringraziare anche la stessa Moratti passo la parola facciamo la parola Nadia del comitato sanitario Milano sud più le mani più le mani dagli ospedali pubblici con la nuova riforma regionale vogliono di nuovo cambiare la destinazione dei due ospedali San Paolo e San Carlo sono due anni o forse anche di più forse da 2017 che continuano a cambiare idea sul destino dei due ospedali prima li volevano abbattere farne uno nuovo da un'altra parte adesso avevano poi fermato mesi fa questa proposta adesso hanno di nuovo un'altra idea vogliono trasformare il San Paolo in un ospedale a bassa intensità cure intermedie vogliono aprire un ospedale di comunità all'interno del San Paolo e spostare le cure ad alta specializzazione a San Carlo non sappiamo che fine farà San Paolo San Paolo e San Carlo sono due ospedali che prendono non solo l'utenza della città di Milano ma anche di tutta la parte della provincia noi non vogliamo che l'ospedale San Paolo venga trasformato in qualcos'altro hanno in mente dei progetti non è chiaro il destino dei due ospedali non si sa che fine fa il pronto soccorso che hanno appena ristrutturato negli ultimi due anni all'ospedale San Carlo spendono ogni 3-4 mesi più di 800.000 euro per affalto a servizi privati parliamo di personale e non solo ho tenuto conto che da questi sono fuori gli affatti per quanto riguarda le pulizie basta dare i soldi ai privati la sanità deve essere pubblica per quanto riguarda i medici di base mancano in tutta la Lombardia in particolare a Milano è esploso il caso del Giambellino dove un medico di base è andato in pensione lasciando senza medico circa 2.000 pazienti la regione ha fatto due bandi nessun medico si è degnato di arrivare al quartiere Giambellino la farmacista si è spesa in questi mesi per cercare di risolvere la questione insieme ai cittadini del quartiere abbiamo fatto presidi ormai sono passati quasi 6 mesi e la risposta della regione non c'è mai stata la farmacista è riuscita a trovare una dottoressa disponibile arrivare ad esercitare nel quartiere Giambellino e finalmente sembrerebbe che sotto la pressione anche delle mobilitazioni che sono state fatte in quartiere con giornalisti sono andate per filo in televisione finalmente forse c'è un bando a fine mese dove dovrebbe partecipare la dottoressa che è stata trovata dalla farmacista questo dimostra che la regione se ne frega assolutamente del fatto che i cittadini sono senza pazienti che sono 6 mesi che le persone in quartiere persone che hanno una certa età che sono croniche che non possono andare dal medico si sono trovate senza cure si sono pagate le medicine c'è il problema che la scelta revoca del medico di base viene fatto solo su appuntamento nelle ATS delle varie zone che non sono ancora aperte a pubblico e non sono a fine regime come lo erano prima quindi il cambio del medico viene fatto solo su appuntamento come dicevo prima ma ci vogliono anche due settimane per riuscire a ottenerlo altrimenti tramite sfide la regione su questa cosa non sta facendo assolutamente nulla speriamo che la questione si possa risolvere ma è la dimostrazione che la regione sui medici di base non fa assolutamente niente se non fosse stata per la mobilitazione delle persone e il fatto che la farmacista si sia spesa in prima persona la questione sarebbe rimasta risolta quindi basta soldi privati non vogliamo che le case della comunità siano un ennesimo regalo ai privati lo stesso vale per gli ospedali della comunità diamo la parola in questo momento a Angelo del forum della salute bene dunque forse è sfuggita qualcuno la notizia che sono sorti dei contrasti nella giunta di destra della Lombardia sulla legge sanitaria che si sta discutendo qui al consiglio regionale allora ovviamente si pensa che questi contrasti siano dovuti al fatto che c'è qualcuno anche dentro la giunta che comincia ad avere dei dubbi sulle privatizzazioni ebbene non è così i contrasti che stanno sorgendo all'interno della giunta di destra sono contrasti su chi deve gestire i soldi che arriveranno in Lombardia dal piano dai fondi europei per cui il governo ha stanziato una parte consistente di questi soldi per la regione Lombardia e quindi sta scoppiando una guerra per bande su chi deve gestire il malloffo ovvero sia Forza Italia ha presentato un emendamento durante la discussione in consiglio chiedendo che la gestione dei soldi venga tolta all'agenzia regionale per le innovazioni e gli acquisti che è una controllata da Fontana e dalla Lega e venga data all'assessorato della Moratti questo è quello che si sta discutendo in questo momento non di come migliorare la legge che le privatizzazioni questo non gliene prega niente ma di chi deve gestire il malloffo un'altra cosa che sta avvenendo fuori e noi come associazioni per il diritto alla salute intendiamo sostenere questo processo che si sta verificando è che nei territori della Lombardia comuni amministratori locali enti locali municipi in una città come Milano anche in qualche caso di destra stanno insorgendo per il modo con cui la regione ha deciso di istituire casa della comunità ospedale di comunità con un piano fatto a tavolino senza nessuna consultazione dei territori come sta avvenendo come diceva prima Nadia per il problema degli ospedali San Paolo e San Carlo nessuna trasparenza nessuna discussione nessuno coinvolgimento degli enti locali per dire ma è meglio fare così o è meglio fare in quest'altro mondo la casa della comunità la mettiamo qui o la mettiamo lì e che cosa deve fare questo ospedale come lo vogliamo cambiare questo avviene nella più assoluta oscurità senza nessun coinvolgimento noi sollecitiamo i sindaci i comuni i comitati che ci sono sono sorti localmente e si stanno in tutta la Lombardia a entrare nel merito a imporre all'ATS e alla regione di discutere quello che si sta si vuole fare sull'attivazione delle strutture territoriali questo mancato coinvolgimento degli enti locali è men che meno dei cittadini è uno scandalo che non può essere tollerato e quindi noi ci impegniamo a sostenere in ogni in ogni luogo della Lombardia qualunque tipo di richiesta di sollecitazione che venga che venga per i sindaci dai parte dei sindaci da parte degli enti locali perché vogliamo che si discuta su come devono essere spesi molti soldi che arriveranno in Lombardia questo è un impegno che riguarda anche tutti i cittadini diciamo la parola a Sacchille che porta il contributo dei pensionati in azione di Gerardo ecco io credo che questa conferenza stampa sia molto importante soprattutto per la manifestazione che deve essere organizzata che organizzeremo proprio qui il giorno 26 alle ore 16.30 ma voglio ricordare anche che voglio ricordare anche che il giorno dopo il giorno 27 il pomeriggio davanti al più albergo Tribunzio sarà organizzato una manifestazione per i morti che la pandemia che questa regione nella fase della pandemia ha causato negli anziani nelle RSA nelle case di riposo questa manifestazione che sarà fatta il 27 pomeriggio davanti al più albergo Tribunzio è organizzata da una serie di associazioni nazionali che sono associazioni dei parenti dei defunti che sono morti per incuria per trascuratezza per negligenza per errore e anche per cattiveria di questa regione Lombardia che ha causato quelle morte i nostri anziani i nostri pensionati hanno diritto di essere ricordati ma essere anche diciamo giustamente diciamo assolti e aiutati nell'azione come sono devono essere aiutate le famiglie perché il Tribunale di Milano per esempio ma anche altri Tribunali d'Italia hanno archiviato stanno archiviando le pratiche i ricorsi i processi che sono stati intentati e questa è una cosa inammissibile inaccettabile guai a dimenticare i morti che ci sono stati a causa della pandemia per colpa di questa regione per responsabilità anche dei comuni anche dei gestori delle case di riposo che sono state naturalmente la causa insieme alla regione regione e casi di riposo e RSA si rimpallano la responsabilità di quei morti perché nessuno è intervenuto come doveva intervenire in quella fase quindi questa questa manifestazione che ci sarà il 27 deve ricordare queste cose ma deve soprattutto attrezzare le associazioni dei parenti a combattere per avere la verità su quelle morti perché si sostiene da parte di alcuni magistrati che non c'è una con causa tra la morte e la pandemia che si è verificata nelle RSA questo questo è inammissibile perché invece c'è una stretta connessione tra la morte che è venuta nelle case di riposo e il comportamento che è stato ottenuto dalla regione dal governo il governo in prima persona non ha dato disposizioni non ha fatto circolari che impartissero precise indicazioni agli operatori che sono stati vittime anch'essi delle morti della pandemia perché molti operatori nelle RSA ci sono contagiati e sono morti oltre che naturalmente il personale sanitario al di fuori delle case di riposo stesse e delle RSA stesse grazie ho finito io non aggiungo altro facciamo la parola ad Angelo del Cialcobas che ci porta il suo contributo con le lotte che stanno sviluppando e con sostegno a queste iniziative io dico due cose diciamo il sistema sanitario che è già in una situazione complicata e difficile su due cose locali della zona martesana le privatizzazioni le vediamo in diverse situazioni anche lì recentemente diciamo hanno deciso di chiudere un servizio dentro l'ospedale di Menzo c'è stata una protesta però sostanzialmente una volta che poi vanno via i medici rimangono gli infermieri rimangono il personale ausiliario diventa poi difficile sostenere che se ne vanno via 12 l'anno prossimo con una o due assunzioni previste nel concorso possa essere ripristinato un servizio questo è il modo con cui fondamentalmente la regione organizza la sanità praticamente lascia andare in pensione o sposta i servizi da una parte all'altra l'altro caso che volevo citare è quello di Cassano Dada durante l'emergenza insomma i lavoratori della fisiatria di questi servizi che lì c'erano c'era questo ospedale da sempre hanno praticamente dovuto giustamente andare a sostenere a Melzo l'attività però quella ventina di persone recuperate su Melzo per intervenire sull'emergenza poi non c'è la sostituzione per poterle rimandare indietro quindi il servizio pubblico di Cassano viene chiuso e viene inaugurato un servizio privato casualmente combinato diciamo qualche solo qualche tempo dopo questo per dire come loro riescono diciamo a organizzare una sostituzione un travaso dal pubblico al privato rendendolo una cosa necessaria e utile e ovviamente lavorando diciamo sul meccanismo del questi del privato fanno solo quello che gli interessa o quello su cui si guadagna di più fanno anche altro per carità però in realtà puntano a profitto però noi ci troviamo poi territorialmente con una situazione sempre più complicata credo che dal punto di vista insomma della situazione dei lavoratori si potrebbe parlare molto molto hanno già detto ho fatto sapere però io voglio solo aggiungere che anche qui evidentemente il ritorno al pubblico e l'assunzione l'utilizzo dei fondi per rimpinguare gli organici e rimettere in sesto i servizi diventa un elemento essenziale insieme agli aumenti salariali altrimenti ci troveremo personale di altre realtà cooperative piuttosto che lavoratori pagati pagati malamente che però proprio perché pagati malamente non è che lavorano automaticamente male però è evidente che cercano un posto migliore quindi il servizio non ha più la storia la tradizione la capacità di intervenire quando hai un organico che è molto ballerino che ruota frequentemente evidentemente quel servizio non ha più quelle radici territoriali quelle comprensioni quelle necessità che vanno oltre la capacità di somministrare il farmaco io la chiuderei qua penso che sia importante far riuscire una presenza e continuare in questi giorni a cercare di far sapere conoscere i danni che potranno essere provocati e cercare insieme alle associazioni che ci sono di costruire un'alternativa sapendo che sarà una strada lunga e difficile però ci tocca per salvaguardare la salute non solo la sanità pubblica come concetto generale ma per salvaguardare la salute veramente grazie grazie Angelo vogliamo intervenire il compagno la zona sud o nord milanese buongiorno siamo qui diciamo come rappresentanti di ci siamo ci siamo è un'organizzazione di giovani lavoratori migranti che vivono a Milano che avendo il problema della casa hanno deciso di occupare stabili qui in Milano specialmente in zona 2 per risolvere appunto il problema della casa e qualcuno magari dirà cosa c'entra il problema della casa con la sanità e c'entra perché queste persone vivono nella nostra città e chiaramente essendo migranti spesso con problemi di documenti ovviamente diciamo ufficialmente non esistono e quindi hanno problemi ad accedere ai servizi sanitari eppure sono persone che vivono in mezzo a noi perché svolgono lavori come svolgono il lavoro di Fattorino oppure lavorano che ne so all'ottomercato o in altre realtà spesso e volentieri lavorano in nero e quindi ufficialmente sono delle persone che non esistono ma in realtà esistono hanno problemi sanitari alcuni anche notevoli e quindi anche loro sono portatori di diritti visto che vivono e lavorano in mezzo a noi e quindi il problema sanitario evidentemente va come dire ad unirsi al discorso al problema della casa e ad altri problemi ad esempio quello del lavoro nero proprio perché in realtà non c'è poi questa divisione così netta i problemi sono notevoli e quindi chiaramente la lotta deve essere portata avanti come dire in maniera coordinata e tra diverse realtà e quindi anche noi vogliamo dare il nostro contributo a questa lotta contro questa legge sanitaria che la regione Lombardia sta portando avanti e che continuerà a regalare denaro pubblico alle realtà private distruggendo chiaramente la la sanità pubblica e quindi niente la nostra presenza qui oggi è legata soprattutto a questo fatto e a cercare di coordinare al massimo le lotte per portare avanti per creare diciamo una realtà migliore nel nostro paese nella nostra città grazie ricordiamo a tutti che venerdì prossimo alle quattro e mezza in questo posto in questa precisa piazza verrà convocata una grande manifestazione contemporaneamente al voto della legge moratti che come in modo abbondante è stato denunciato porterà a un'ulteriore privatizzazione del sistema sanitario invitiamo tutti a partecipare all'iniziativa a dimostrare che questa legge anche passasse nel modo peggiore possibile come l'hanno programmata troverà nei territori un'opposizione invitiamo tutti i lavoratori tutti gli interessati a partecipare all'iniziativa di venerdì pomeriggio alle ore del vicepresidente di venerdì dei vissing dei � subito Grazie.